Gentili telespettatori in buona giornata, Lega e Forza Italia minacciano la caduta del governo e voi direte ma il governo non è già caduto, non è dimissionario? No, loro minacciano la caduta del governo che deve ancora fare le elezioni ma loro già minacciano la caduta del governo. Berlusconi dice che se i soci di cui lui astima, rispetto, guarderanno dall'altra parte, cioè non guarderanno l'Europa ma guarderanno Orban e compagnia cantante, lui uscirà dal governo, noi usciremo dal governo. Un governo che non è ancora nato e con queste dichiarazioni non nascerà nel migliore dei modi. E voi direte ma la Lega minaccia di uscire da un governo che ancora non c'è? Eh sì, oggi a Pontita, dove c'è la, come la chiamiamo, la riunione della Lega, cosa succede? Succede che arriva il governatore Zaia, presidente di regione perché non governa una fava. In Italia i governatori non sono governatori, li chiamano governatori ma sono presidenti di regione perché in realtà non governano una fava. Ma che te governi? Ma non governi neanche casa tua? Sono presidenti di regione, non sono i governatori, non è il governatore del Texas che è uno Stato. Quindi le regioni non sono stati e i presidenti di regione non sono governatori. Ma il presidente della regione, Luca Zaia, dice l'autonomia? Attenzione, bisogna dire prima del voto quali sono le intenzioni del governo che verrà sull'autonomia perché questo è un tema che fa cadere i governi, dice Luca Zaia. E quindi tra Lega e Forza Italia minacciano di far cadere il governo che non è ancora nato, non sono state fatte neanche le elezioni. Pensate un po'. Questo è il livello del centrodestra. Minacciano di far cadere un governo che non c'è per il momento e non ci sono state neanche le elezioni. Ovviamente i politici di questi due partiti cosa dicono? Tutti muti perché quando i dirigenti o i capi politici dicono una cosa tutti devono dire sì signore, certo, fantastico, l'ho sempre pensato anch'io. Eh sì, ovviamente i partiti sono delle aziende e i militanti o politici di basso rango, se non dicono sì signore, i loro sogni di arrivare in Parlamento, che già non si realizzeranno mai, sono definitivamente cancellati. Bene. Un governo che non c'è. Minacciano di far cadere un governo che non è ancora nato. Certo, i presupposti sono tremendi. Io ho sempre parlato di un governo che nascerà dove il principale problema di Giorgia Meloni sarà proprio Salvini. Giorgia Meloni e poi Berlusconi. Perché loro sono sempre gli stessi, sono quelli che in questi due anni hanno fatto di tutto per ostacolare l'avanzata di Giorgia Meloni. Eh, l'abbiamo visto, durante il governo Draghi hanno fatto di tutto, dal Copassir, Rai, Sgambetti, non hanno votato le emozioni di Fratelli d'Italia, si sono girati dall'altra parte, si vedevano, non la invitavano, Berlusconi diceva certe cose, Salvini ha... Insomma, quello di cui abbiamo sempre parlato. Però non erano arrivati ancora al livello di dire facciamo cadere il governo che ancora non è nato. Qui siamo a un livello superiore, ecco. Davvero sono curioso di vedere come Giorgia Meloni risponderà a questi due politici, perché se lei vince le elezioni del capo del centrodestra ha il diritto di indicare la politica del governo. Salvini e Berlusconi saranno il numero due e il numero tre, che certo senza di loro non si può governare ma non possono comandare loro. Perché pensate un po', neanche messi insieme Salvini e Berlusconi arrivano al livello di voti di Giorgia Meloni. Ipotizziamo che Giorgia Meloni abbia un 25, Salvini un 12, Berlusconi un 5, quindi dall'altra parte sarebbe un 25 e di qua ci sarebbe un 17. Diciamo che Salvini e Berlusconi, messi insieme, varrebbero come il 33-35% del centrodestra, messi insieme. Quindi Giorgia Meloni avrebbe la maggioranza assoluta nel centrodestra, non una maggioranza relativa. Certo, senza questi due personaggi politici non può andare a governare, quindi volente o nolente deve andare al governo con questi due politici che hanno dei limiti giganteschi. Guardate Salvini, si è fatto odiare da Conte, finisce il governo Conte dove Conte ormai che aveva perso completamente la pazienza, in Parlamento, 20 minuti gliene dice di tutti i colori. Vi ricordate? Salvini faceva le facce, lo indicava. Finisce il governo Draghi, quello Conte fatto cadere da Salvini, quello Draghi fatto cadere da Salvini, Berlusconi e Conte. Finisce il governo Draghi e ha portato all'esasperazione anche Draghi, che nell'ultima conferenza stampa gli è inadette di tutti i colori. Con nome e senza nome, quindi vuol dire che governare con questo personaggio politico è impossibile. Bisognerà solo capire quanto Giorgia Meloni, se vincerà le elezioni, potrà durare con questi personaggi. Il problema principale sono loro due. Il secondo problema è la finanza internazionale. Cosa succederà con lo spread, queste cose qui? La sinistra è un problema, ma va, quelli vanno all'opposizione, si metteranno a scrivere su Facebook, su Instagram, diranno che siamo sotto una dittatura, che non sono democratici, che l'Italia è l'Ungheria, la Polonia, che noi siamo filo di qua, filo di là, filo di su, filo di giù, ma sono post in internet, nient'altro che post in internet, perché l'opposizione quello che può fare è criticare tramite giornali o social. Però se un governo ha i numeri va avanti, li lasci criticare e vai avanti. Quando il problema è all'interno del governo, come sicuramente, il problema è già prima che nasca il governo, quello sì che è un gran punto di domanda. Arrivederci a tutti e grazie.